Inizia la seconda parte della nostra sessione pomeridiana con la seconda relazione sul tema. Beni comuni e diritti d'uso nelle terre ticinesi, quindi è una preziosa modalità di osservazione al di là dei confini ma in terra italiana storicamente per tanti versi. Tra i ettori e storiche tra conflitti e pratiche di regolazione. L'oratore è il professor Luigi Lorenzetti, coordinatore del laboratorio di storia delle Alpi e professore titolare del corso Gli ingegneri e le Alpi nell'Accademia di architettura dell'Università della Svizzera italiana in Mendrisio. A lei la parola. Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare il professor Pietro Nervi e gli organizzatori di questo importante convegno per l'invito. Ne sono molto onorato e mi rendo conto che davanti a una criteria di persone così competenti il rischio e l'impegno è... O meglio... Il rischio è di imparare da parte del mondo. Speriamo. Dunque, in quanto storico il mio intervento avrà un taglio essenzialmente storico, naturalmente. Guarda al passato e in quanto storico dell'economia e della società, le mie riflessioni rischiano forse appunto di sembrare magari un pochettino impressionistiche per quanto riguarda gli aspetti giuridici che cercherò di affrontare o di presentarvi. Dunque, queste considerazioni credo vanno prese più come delle ipotesi di lavoro che come delle vere e proprie conclusioni definitive di un lavoro tra l'altro che è semplicemente in divenire. Vorrei partire appunto in qualità di storico economico e sociale da un articolo di un altro storico economico sociale, o meglio di due colleghi storici economici sociali francesi, che proprio l'anno scorso hanno pubblicato in una rivista dedicata alla storia rurale un articolo interessante, trovo, in cui osservavano, facciano notare o ipotizzavano come la rivoluzione francese in fondo non ha implicato nessuna modifica radicale da parte delle persone, degli individui, nei loro rapporti con la proprietà. E questo nella misura in cui la proprietà eminente del sovrano e dei signori, questa è la loro tesi, è in fondo stata sostituita dalla proprietà eminente dello Stato. In altre parole, nonostante la sua affermazione quale riferimento del sistema proprietario contemporaneo, la proprietà è rimasta soggetta, anche dopo la rivoluzione, a limitazioni e a vincoli, questa volta fissate dallo Stato, quanto appunto alla piena disponibilità da parte dei suoi proprietari. Ecco, si tratta, credo, di una tesi che, oltre a permettere di meglio cogliere le logiche degli attuali fondamenti giuridici di gestione del suolo, del territorio, da parte degli enti pubblici, nel caso svizzero a cui mi riferisco, penso allo Stato, lo Stato federale, i cantoni, i comuni, ma che offre anche, credo, un'interessante prospettiva per leggere o rileggere il dualismo, il cosiddetto dualismo comunale svizzero e la formazione del patriziato, quale erede, potremmo dire, delle antiche vicinanze che si affiancano al comune politico attuale. Ecco, per meglio precisare questa pista, attorno a cui ho pensato il mio intervento, credo però sia opportuno dedicare un qualche minuto a ripercorrere il percorso storico che nella Confederazione ha portato alla formazione, al consolidamento di questo dualismo comunale, in particolar modo nella prima metà del XIX secolo. Il dualismo comunale in Svizzera prende forma durante la Repubblica Elvetica, questa Repubblica filo-francese, imposta dai rivoluzionari nel 1798 e che è durata per pochi anni, fino al 1803, imponendo appunto alla Svizzera un'architettura politica e istituzionale unitaria. Dunque, un sistema politico-istituzionale completamente diverso a quanto esisteva in precedenza, con i diversi cantoni sovrani e una serie di territori soggetti e paesi alleati. Ecco, tra le misure adottate dalla Repubblica Elvetica, tra le prime misure adottate dall'Elvetica, in nome dell'uguaglianza, vi è l'abolizione delle vicinanze, delle comunità vicinali e delle corporazioni sostituite dal comune municipale e dalle municipalità. La misura naturalmente si scontrò con molte resistenze da parte delle comunità locali e per tale motivo, molto rapidamente, nel giro di pochi mesi praticamente, il progetto rivoluzionario dovette trovare un compromesso che si concretizzò appunto nell'istituzione del cosiddetto dualismo comunale, vale a dire che accanto alle municipalità, ai comuni municipali, si affiancarono, o tornarono ad affiancarsi, o si affiancarono meglio, i comuni patriziali, emanazioni in fondo recupero, una forma di risorgimento, delle vecchie vicinanze da cui appunto i comuni patriziali ereditarono i beni e la loro amministrazione. Nel 1803, la caduta della Repubblica Elvetica e l'intervento di Napoleone, sancì il ritorno a un sistema comunale unitario, che è la fase cosiddetta del patriziato municipale, che vedete qua. Questo patriziato municipale si protrasse fino ai primi anni 30 del XIX secolo e in questa fase i patriziati tornarono ad assumere funzioni e competenze politiche, funzioni e competenze che avevano perso appunto durante la fase della Repubblica Elvetica, la fase rivoluzionaria. In particolare, durante la fase del patriziato comunale, l'appartenenza al patriziato fu confermata quale condizione imprescindibile per l'acquisto della cittadinanza, cittadinanza cantonale nel caso del Ticino, e per l'esercizio soprattutto dei diritti politici. E' una fase che si protrasse fino alla cosiddetta rigenerazione, fino agli anni 30, anni in cui scoppiano molti liberali in varie regioni della Svizzera, e questo portò a un progressivo riordino istituzionale e al ritorno appunto del dualismo comunale, con cui vennero definitivamente separati i due enti di diritto pubblico, vale a dire il comune politico e il comune patriziale. E in questa fase appunto avverrà progressivamente la sottrazione definitiva al patriziato delle sue competenze di ordine politico. Con la divisione materiale tra i due enti, al comune furono affidati, al comune politico quindi, furono affidati tutti quei beni che servivano all'insieme degli abitanti, i domiciliati, in particolare gli acquedotti, le fontane pubbliche, le piazze, i cemiteri, le scuole, le infrastrutture viarie, i servizi dedicati al soccorso ai poveri, mentre ai comuni patriziali, ai patriziati, rimase il cosiddetto patrimonio godibile, ovvero terreni, pascoli, boschi, alpi, oratori di giuspatronato, già appunto di proprietà delle vecchie vicinanze. L'assetto giuridico raggiunto nei primi anni 30 del XIX secolo è rimasto praticamente mutato fino ai nostri giorni. In Ticino in particolare, dopo la prima legge organica patriziale datata del 1835, vennero poi varate altre leggi patriziali, una seconda viene promulgata, adottata nel 1857, e poi a cento anni di distanza una terza legge organica patriziale, 1962, fino all'ultima dei primi anni 90, attualmente in corso di di consultazione, un'ulteriore nuova versione di legge organica patriziale. Queste ultime leggi, tra l'altro quelli del XX secolo, sono state volute proprio per tener conto delle mutate condizioni economiche del cantone, dei nuovi compiti, delle nuove funzioni a carico appunto dei patriziati, chiamati specialmente, in particolar modo, ad accrescere il loro ruolo pubblico a favore in particolar modo del territorio e dell'ambiente. E questo attraverso un aumento delle collaborazioni appunto tra comuni, municipalità e patriziati. Ecco, questa rapidissima carrellata sulla nascita e lo sviluppo del dualismo comunale che ancora fa parte del sistema istituzionale svizzero, tra l'altro per inciso vi segnalo che ancora attualmente nel solo canton Ticino circa la metà dei boschi, delle superfici boschive appartengono ancora a enti patriziali. In Svizzera quasi l'80% complessivamente del territorio svizzero è ancora nelle mani di appartenenza a enti patriziali. Chiuso questo breve inciso. Ecco, dicevo, questa rapida digressione sulla nascita e lo sviluppo del dualismo comunale svizzero e la sua applicazione nella realtà ticinese cela in realtà non poche contraddizioni. Siamo lungi da essere di fronte a un percorso lineare, tant'è vero che durante la prima metà del XIX secolo l'ente patriziato è stato al centro direi di un aspro confronto dialettico tra una concezione privatistica da una parte e una concezione invece che vedeva in essi nei patriziati un ambito afferente piuttosto al diritto pubblico. E questo scontro però in un certo senso si collega anche al quadro giuridico del possesso esistente nello specifico nelle terre ticinesi nei primi anni del XIX secolo. in quell'epoca dunque siamo nella prima età del XIX secolo per la gente comune la difficoltà a riconoscere l'altro modo di possedere probabilmente riguardava non tanto i beni collettivi le proprietà collettive ma proprio la proprietà privata individuale erano le proprietà collettive la proprietà divisa che erano le realtà possessorie più diffuse e familiare tra la popolazione mentre era la proprietà privata individuale che rimaneva ancora qualcosa di non dico estraneo ma di particolare e non a caso nel codice civile nel primo codice civile ticinese ecco che questo codice non compì questo definitivo superamento dei pluradominia che ancora esistivano. In questa prospettiva quindi l'ipotesi a cui accennavo inizialmente dei due storici francesi Gérard Beor e Jean-Michel Chevet può rappresentare credo un interessante spunto per rileggere in fondo lo sconto tra la concezione pubblica o privata dei patriziati ticinesi alla luce appunto del dibattito giuridico sulla proprietà divisa e in definitiva sull'attribuzione della proprietà eminente del suolo allo stato il suo usufrutto o più propriamente la proprietà di diritto d'uso sui beni di natura amministrativa patrimoniale appunto ai patriziati ecco mettendo a confronto il dibattito politico riguardante la soppressione dei diritti di pascolare e quello riguardante la natura del dualismo comunale nella realtà ticinese vorrei proprio tentare di mettere in risalto di così di chinarmi sulle argomentazioni che hanno promosso l'attuazione e l'uso della proprietà divisa quale principio giuridico in grado in certo qual modo di garantire ai patriziati la sopravvivenza all'interno dell'ordinamento giuridico dell'ordinamento del diritto pubblico ticinese e per diversi cantoni svizzeri dunque affronterò un po' la questione prendendo due casi specifici il primo riguarda appunto come accennavo poc'anzi i diritti di pascolo i diritti di pascolo esercitati sulle terre private o collettive uno dei primi cantieri di cui si occupò il giovane stato ticinese nato appunto nel 1803 fu quello riguardante la necessità di promuovere il progresso dell'agricoltura attraverso appunto la soppressione dei diritti di pascolo e già nel 1806 dunque siamo a tre anni dalla nascita del cantone una legge sancì la possibilità di riscattare i diritti di pascolo da parte dei proprietari dei terreni e l'abolizione senza andennizzo senza andennizzo della cosiddetta trasa ovvero diciamo così del vago pascolo ecco qui l'assenza di una chiara distinzione tra queste due pratiche diritto di pascolo e vago pascolo trasa trasa generale così era chiamata in Ticino aprì le porte a un'incertezza giuridica che in fondo limitò fortemente l'applicazione la possibilità di applicare concretamente la legge e negli anni seguenti che seguirono furono infatti molto poche le comunità in cui furono effettivamente avviate le procedure di riscatto e ancora meno quelle che effettivamente arrivarono a termine dunque che arrivarono a riscattare queste superfici e in primo luogo appunto a causa delle resistenze delle comunità per le quali naturalmente la trasa generale il vago pascolo garantiva ai proprietari di bestiame un insostituibile supporto per sopperire alla cronica insufficienza delle riserve di foraggio ecco un'inchiesta voluta dal governo ticinese realizzata nel 1841 quindi ben 35 anni dopo la promulgazione della prima legge confermò il modestissimo riscontro della legge sul riscatto dei diritti di pascolo e di abolizione del vago pascolo e i dati mostrano peraltro una differenza abbastanza chiara abbastanza netta tra il sud e il nord del canton ticino il sud del cantone dove le caratteristiche dei terreni si prestavano maggiormente allo sviluppo di un'agricoltura intensiva e d'altra parte invece il nord più alpino con un territorio connotato maggiormente alpino dove l'allevamento aveva un ruolo più importante nel complesso appunto nel periodo preso in esame dunque tra il 1806 e il 1841 solo un'ottantina di comuni su 270 che a quell'epoca esistevano in Ticino registrarono dei riscatti le terre toccate dalla misura avevano una superficie totale di solamente 704 ettari vale a dire fondamentalmente una parte infima rispetto al territorio alla superficie cantonale e certamente modesta rispetto ai terreni soggetti a diritto di Pascolo e inoltre oltre a questo naturalmente la Trasa il vago Pascolo veniva ancora ampiamente tollerato e praticato e quindi è sulla base di questi risultati che nel giro di quattro anni il Parlamento cantonale votò ben due leggi 1841 e 1845 volte proprio a facilitare la definitiva abolizione del diritto di Pascolo attraverso le procedure di riscatto queste leggi tuttavia non risolsero l'indeterminatezza degli ambiti della loro applicazione e ciò cito una frase di un parlamentare e ciò per varie e diverse difficoltà che l'interpretazione della stessa legge 5 giugno 1845 ha sollevato per la sua insufficienza allo scopo alla fine quindi si prese atto che la legge in vigore conteneva altra citazione dei vocaboli il di cui significato troppo diversamente è interpretato perché essa legge possa essere dappertutto nel suo vero senso applicata dunque siamo di fronte a un'indeterminatezza giuridica dovuta al fatto che chi ha elaborato la legge in realtà aveva in mente concepiva istituzioni pratiche soprattutto diverse da zona a zona presente nel cantone solo alcuni anni dopo nel 1853 si giunse quindi a un accordo su soprattutto la natura della trasa generale del vago pascolo su cosa fosse realmente il vago pascolo che appunto riporta la legge fu definita come cito quel pascolo che si esercita sul fondo altrui non in forza di diritto speciale dell'utente di cui si è affetto detto fondo ma in forza di regolamenti generali emanati dal patriziato o dal comune o in forza di una consuetudine è ugualmente patriziale o comunale ecco questa chiarificazione così diciamo quasi semantica permise in fondo di disincagliare la questione dell'abolizione della trasa generale inoltre l'urgenza alimentare siamo in anni i primi anni 50 che anche in Ticino è confrontato con grave difficoltà di approvvigionamento di produzione agricola favorì appunto un ulteriore passo verso il riscatto dei diritti di pascolo questa volta non più facoltativi ma obbligatori la legge rese questi riscatti obbligatori dunque questo lungo processo riguardante i diritti di pascolo e il vago pascolo mostra in fondo le molte resistenze delle consuetudine locali confrontate in fondo con progetti di unificazione politica giuridica economica dello spazio in cui l'opzione privatistica ha cercato il suo spazio all'interno del disegno politico istituzionale comunitario fondato appunto sul dualismo comunale ecco le dinamiche queste dinamiche appaiono invece molto diverse se passiamo dai diritti d'uso quali appunto il diritto di pascolo alle proprietà collettive dicevo appunto dei beni comuni presenti in Ticivano che appartenevano all'inizio dell'Ottocento furono affidati ai patriziati a questi enti creati o nati in fondo come eredi delle antiche vicinanze ecco ecco le numerose ambiguità e imprecisione delle norme che sancirono l'istituzione dei patriziati permise appunto ai patriziati di continuare in fondo a definirsi come corpi godenti di comproprietari questo è quanto i membri dei patriziati dichiaravano di essere dei corpi godenti di comproprietare dunque di avere la proprietà del solo quindi delle persone giuridiche che agivano in ambito privatistico chiamate a garantire in fondo e soprattutto l'indivisibilità e l'inalienabilità dei loro beni questi erano alcuni principi fondanti appunto dell'azione dei patriziati se non che se non che proprio questi principi in particolare il principio dell'inalienabilità furono appunto oggetto di parecchie violazioni di costanti violazioni a partire dal 1798 e nel corso degli anni successivi proprio negli anni di esistenza della Repubblica ilvetica le contestazioni rivolte e patriziati circa il loro diritto esclusivo di godimento dei beni comuni portò parecchi di essi appunto a promuovere la spartizione tra i loro membri spartizione di quote del loro patrimonio attuando in pratica una vera e propria privatizzazione in fondo di questi di beni di parte di questi beni il timore il timore in fondo era quello di dover suddividere i diritti di godimento di uso di questi beni con coloro che non figuravano tra i comproprietari e ciò portò quindi appunto come dicevo diversi patriziati a rinunciare in fondo al principio dell'inalienabilità in nome del diritto di proprietà che si rivendicavano ecco anche la fine dell'esperienza dell'Elvetica della Repubblica Elvetica rivoluzionaria e il ritorno al sistema comunale unico in fondo non bloccò del tutto l'erosione dei patrimoni collettivi ed è perlomeno quanto sembrano indicare anche tutta una serie di lettere di comunità della regione di Bellinzona del distretto di Bellinzona su cui ho potuto così lavorare ultimamente che sulla scorta appunto di una serie di decreti emanati nella primavera del 1803 dunque proprio poche settimane pochi mesi dopo l'intervento di Napoleone dunque la proclamazione dell'atto di mediazione ecco questi comuni si rivolsero a un organo amministrativo distrettuale per chiedere la concessione di diritti di diritti probabilmente patriziali per poter vendere ed estinguere scusate da poter vendere ed estinguere i debiti che erano stati cumulati negli anni precedenti a causa appunto della guerra in anni di penuri alimentare se non addirittura di crisi di sussistenza di carestia l'atteggiamento del nuovo governo cantonale oscillò in pratica e non senza contraddizioni tra la volontà di accrescere la produzione agricola da una parte e attraverso la messa cultura di superfici incolte o marginalmente valorizzate e dall'altra parte il desiderio di aumentare il loro controllo sulla gestione dei beni comuni onde evitare appunto un'eccessiva dispersione una privatizzazione reputata abusiva così ad esempio nel 1806 fu accordata ai comuni la facoltà di cedere a patrizi e non patrizi dei lotti di terreno incolto terreni detti comunali ma verosimilmente tra questi beni tra queste terre vi sono anche terre comuni fino a un massimo di dieci pertiche 5.000 metri quadrati a condizione che gli acquirenti li dissodassero e li mettessero a colture entro un anno dal momento dell'acquisto poco dopo però lo stesso governo si adoperò per frenare la tendenza allo smembramento delle proprietà collettive da cui i patriziati traevano le risorse per l'assistenza ai poveri e questo proibendo appunto le alienazioni sono indietro l'autorizzazione governativa dunque in certo modo un tentativo di messa sotto tutela della gestione patriziale ecco la prima legge organica patriziale ticinese messa in cantiere nel 34 e poi votata nel 35 cercò di imporre tale principio per il governo per i membri per il governo infatti i membri dei patriziati non andavano più considerati dei comproprietari ma piuttosto degli usufruttuari e in quanto tali inabili a disporre in modo libero autonomo dei loro beni evidentemente per i patriziati la proposta governativa risultò inaccettabile nella misura in cui questo significava ammettere e cito che il corpo patriziale fosse venuto nella tutela del consiglio di stato del governo e che se si trattasse della vendita di una pianta dovranno i patriziati ricorrere al governo si chiede in modo ironico in particolare sarebbe cosa ridicola risponde questo parlamentare negli anni successivi naturalmente la questione rimase collegata ai problemi economici ai problemi di produzione agricola e di approvvigionamento il problema dell'insufficienza dell'insufficiente produzione agricola tornò a farsi urgente e con esso anche la necessità di incentivarla attraverso appunto la messa a cultura di nuove terre incolte il governo sottoposo quindi al Parlamento un nuovo progetto di legge volto a promuovere la divisione di parte dei beni patriziali con il fine appunto di accrescere la produzione agricola e alimentare del cantone il dibattito che ne seguì in fondo mise in evidenza le diverse argomentazioni tra coloro che sostenevano la misura in nome del progresso agricolo e coloro che invece paventavano il rischio dell'aumento del pauperismo in quanto i cetti meno abbienti più poveri sarebbero stati esclusi dall'accesso alle proprietà collettive a causa appunto dell'accaparamento delle terre divise da parte delle persone più abbienti ecco nel corso del dibattito si delineò anche la proposta di effettuare queste divisioni sulla base di una vera propria cessione della piena proprietà di queste terre alla fine in realtà prevalse una soluzione che trovò nella distinzione tra dominio utile e dominio ominiente un compromesso in grado di conciliare che avrebbe dovuto conciliare questi due obiettivi il Parlamento scelse quindi di promuovere certo la divisione nella forma dell'attribuzione del diritto d'uso per un periodo determinato dieci anni di parte delle terre patriziali scostandosi però dall'approccio che aveva guidato il riscatto dei diritti di Pascolo e la proibizione della trasa generale e in fondo facendo questo dando un colpo di freno a questa opzione privatistica sostenuta dalle correnti liberali presenti nel Parlamento pochi anni dopo nel 1857 quando viene varata la nuova legge organica patriziale ecco questa legge sancì la natura del patriziato ticinese come corporazione preposta al godimento di un patrimonio pubblico in altri termini al patriziato non fu più riconosciuto lo statuto di associazione di comproprietari in quanto il suo patrimonio non era posto a sua libera e assoluta disposizione in pratica venne sancito il principio che il patriziato aveva solo il diritto di amministrare i propri beni e di farne oggetto di sfruttamento agricolo ma non gli era concesso di venderlo e di distribuirne i ricavi tra i suoi membri ecco in conclusione visto che il tempo era mai scaduto la messa in parallelo di queste due vicende quello riguardante i diritti di pascolo da un lato e quella riguardante i beni comuni dei patriziati dall'altra mostra in fondo due percorsi assai diversi e in fondo in buona parte conducibili a due diverse logiche economiche quella qualitativa volta l'intensificazione della produzione agricola volta liberare la proprietà dai vincoli della proprietà divisa dei diritti d'uso e quella quantitativa mirante all'estensione invece delle superfici agricole ecco sancendo il diritto il principio del dualismo comunale in fondo l'ordinamento cantonale ha paradossalmente quasi frenato l'opzione privatistica voluta e promossa in nome del progresso dell'agricoltura e difatti per lo Stato tal'opzione è apparsa inattuabile allorquando applicata ai beni degli enti patriziali negando negando ai patriziati la loro qualità di comproprietari di corporazione di comproprietari e assimilandoli a enti di diritto pubblico lo Stato in fondo ne ha circoscritto le prerogative all'usufrutto dei beni di loro pertinenza senza farne un'esplicita enunciazione le leggi del 1852 sulla divisione dei beni di parte dei beni patriziali e quella la legge organica patriziale del 1857 in fondo sancirono nient'altro che l'attribuzione del dominio eminente dei beni patriziali ai comuni lasciando quindi in vita quello che qualcuno ha definito questo barocco edificio dell'aristocratismo sia dell'età di mezzo come era appunto era stato definito l'istituto della proprietà divisa vi ringrazio ringraziamo noi il professor Lorenzetti per questo affondo sulla realtà storica dell'alta valle del fiume Ticino in ambito elvetico però ho il piacere di salutare il dottor Aldo Carosi vicepresidente della corte costituzionale che ci onora e sappiamo tutti sappiamo tutti quanto dobbiamo al dottor Aldo Carosi come relatore giudice relatore di sentenze che sono delle tappe fondamentali nell'itinerario di sempre maggiore valorizzazione degli assetti fondiari collettivi la sua presenza fa piacere a tutti noi passiamo ora ad una parte non minore anzi di un estremo interesse della nostra prima sessione cioè la voce che viene direttamente dalla prassi delle proprietà collettive saranno interventi più brevi semplicemente perché sono quattro se non erro e do la parola per primo ad Alessio Telloni presidente dell'università agraria di Manziana il dottor Carosi che vive a Viterbo si sentirà a casa sua ora allora la parola è lei signor Telloni il suo tema è le proprietà collettive come custodi di valori culturali il progetto terra comune quale metodo per stimolarne una gestione al passo con i tempi a lei la parola grazie buonasera a tutti pregherei di tenere conto del quarto d'ora che le viene concesso sarà fatto grazie allora innanzitutto buonasera a tutti e sono lusingato di essere qui in un palcoscenico così prestigioso per il mondo dei domini collettivi e sono lusingato anche di poter portare un'esperienza concreta dei domini collettivi del centro-sud del nostro paese racconterò di questo progetto che sto portando avanti come università agraria di Manziana ma insieme ad altre università agrarie del mio comprensorio che è quello diciamo a nord-ovest di Roma che è il progetto diciamo terre comuni in una sostanza è un progetto che vuole rilanciare chiave moderna la gestione di questi enti per capire un po' la tematica del progetto è fondamentale analizzare dove ci troviamo allora ci troviamo in una vasta area di domini collettivi di proprietà collettive che è collocata a nord-ovest della capitale di Roma diciamo tra i monti della Tolfa e il lago di Bracciano per capirci abbiamo un patrimonio fondamentale da un punto di vista paesaggistico con degli ambienti naturali variegati che vanno dalle montagne mediterranee dei monti della Tolfa fino ad arrivare agli ambienti dei laghi interni quindi dove le foreste la fanno da padrone abbiamo addirittura delle faggete importanti cosiddette faggete depresse perché situate a 400 metri sul livello del mare quindi molto molto importanti in realtà però quello che dicevo è il paesaggio l'elemento determinante paesaggio in quanto interazione tra l'attività umana la civiltà e la natura e in questo il nostro territorio è influenzato dalla città eterna dalla capitale che ha in qualche modo generato il regime dei domini collettivi e lo ha consolidato nel tempo a partire dal periodo romano ad arrivare a consolidarsi con lo stato pontificio e per far capire la profonda connessione che c'è tra Roma e il nostro territorio volevo fare alcuni esempi rapidi allora nel 109 dopo Cristo Traiano fa costruire un acquedotto che prende acqua dal lago di Bracciano e la porta sul colle del Gianicolo quest'acqua oltre che dissetare la città come altri acquedotti che l'alimentano in realtà ha una funzione molto importante perché per caduta fa muovere dei grandi opifici cioè delle macine che servono a macinare il grano per produrre farine con cui si alimenta l'intera città l'elemento significativo di questo acquedotto e l'importanza strategica è quando nel 537 Vitige Reostrogoto cerca di saccheggiare di prendere in scacco la città fa un sabotaggio sui 14 acquedotti che l'alimentavano e fa un sabotaggio anche sull'acquedotto di Traiano l'importanza fondamentale di questo acquedotto fa sì che Roma subito si organizza e trasferisce la forza motrice che muove questi opifici sul Tevere in prossimità dell'isola Tiberina per continuare a far sì che i grani possano essere macinati altro fondamentale esempio a cui tengo particolarmente per chi mi riguarda da vicino è la presenza nei libri della fabbrica di San Pietro di testimonianza di bordoni di ischio cioè travi di rovere e travoni di cerro che dalla foresta dalla selva manziana quindi di proprietà dell'università di manziana attualmente vengono trasportati in Vaticano per costruire i castelli che sorreggono le centine per la costruzione della cupola di San Pietro in ultimo ma di connessioni ce ne sono enormi vorrei citare la grande attività estrattiva che fu presente intorno al 1600 in Tolfa nei monti della Tolfa e principalmente ad Allumiere grazie allo Stato Pontificio e alla reverenda Camera Apostolica cioè la scoperta di un minerale fondamentale l'allunite da cui si ricava l'allume che è un diciamo un materiale molto importante per quanto riguarda alcuni utilizzi tra cui lo scopo tintorio serve a fissare i colori o anche quello di conciatura delle pelli come quello in utilizzo diciamo medico in quanto ha una potenza astringente emostatico fa sì che questa diventa subito un'attività fiorente sfruttata dallo Stato Pontificio e data in concessione alle famiglie nobili e qui c'è l'esempio molto bello secondo me perché una famiglia che prende in concessione questa attività estrattiva la famiglia Sacchetti commissiona un pittore non da poco ma a piedo da cortona il fatto di dipingere un paesaggio e quindi una cava di allunite sui monti della Tolfa e questo quadro è esposto ora ai musei capitolini e è ben raccontato tutto il processo da un museo civico che si trova nel paese del Lumiere dove la narrazione museale ruota proprio tutta attorno all'estrazione di questo minerale ora perché tutto questo racconto sulle connessioni perché credo che ci troviamo di fronte a un fatto importante sul nostro territorio sono ringraziando Dio ancora presenti molte proprietà collettive in realtà però quelli che sono gli utilizzi gli usi civici tradizionali non sono più esercitati dalla pluralità dei cittadini ma poche persone utilizzano e realizzano e godono ancora di questi importanti diritti mentre invece ce n'è uno molto più plurale che è quello che riguarda la fruizione del paesaggio cioè sempre di più aventi diritto godono delle proprietà collettivi per fini ricreativi cioè il fatto di fare una passeggiata che sia per fini sportivi per lo star bene o per fini ricreativi è comunque un valore enorme inestimabile ed è possibile farlo nelle proprietà collettive ora il passeggiare senza conoscere credo che sia in qualche modo un elemento che pian piano potrebbe far perdere il significato e l'importanza che hanno avuto questi i domini collettivi sul nostro territorio sulla salvaguarda e tutela del paesaggio per cui il progetto si è ispirato un po' al Grand Tour il fenomeno che si sviluppa tra il 1600 e la fine dell'800 questo viaggio dei rampolli dell'aristocrazia nord-europea che non era un viaggio era un viaggio pregno di significato in quanto approfondiva le loro conoscenze e quindi si è voluto un po' ripercuotere questo modello cioè passeggiare conoscendo cioè capendo cosa è accaduto su quei territori quali sono stati gli elementi e tutte diciamo le battaglie significative che hanno fatto sì che quel territorio sia adesso così ben conservato e così importante per magari passare e spendere anche una giornata stando bene e da qui l'idea quindi di disegnare un vero e proprio cammino che mettesse in connessione queste proprietà collettive il cammino attualmente va da Lumiere ed arriva fino a Campagnano di Roma dove intercetta la via Francigena e da lì si può arrivare a San Pietro sono circa 140 km di cammino e l'idea di realizzarlo è stata promossa dal basso si sono coinvolti dei camminatori e insieme a loro attraverso alcuni eventi realizzati tra la primavera e l'autunno del 2017 si è camminato per tappe in sette tappe si è tracciato questo questo percorso e lungo questo cammino si sono raccontate si sono visitate tutte quelle emergenze culturali importanti e significative per far capire che cosa fosse un dominio collettivo ora all'interno inoltre di questo cammino si sono anche intercettati tutti quei prodotti agroalimentari che sono frutto invece degli usi civici tradizionali ma che hanno bisogno di essere promossi per far sì che non cessino per cui abbiamo fatto in modo di intercettare questo doppio segmento cioè aventi diritto che camminano aventi diritto che esercitano gli usi civici tradizionali e producono dei prodotti e che quindi possano in qualche modo costituire la domanda e l'offerta tra questi prodotti ricordo e sottolineo l'allevamento brado della vacca maremmana quindi carne di grande prestigio di grande sapore che invito tutti ad assaggiare l'olio e esperimenti importanti che si stanno portando avanti sui monti della Tolfa sia all'università di Allumiere che di Tolfa quello di riseminare dei grani antichi insomma che identitari della nostra Italia e fondamentalmente produrre quindi farine e delle paste da questi grani concludo rapidamente dicendo che altra importante azione che si è fatta è quella di recuperare quelli che sono i patrimoni identitari immateriali cioè i saperi le tradizioni tutto quello che può contribuire a creare uno spirito identitario in una comunità quindi si sono realizzati i progetti didattici con le scuole e sono stati prodotti degli spettacoli teatrali che parlano di folclore e che meglio di me in questa sede riescono rapidamente attraverso una suggestione per immagini a raccontare quello che è il territorio e a far sì che ci si appassioni e lo si riconosca come fortemente identitario se posso professore rapidamente ho due minuti un minuto di un piccolo spot un minuto di un piccolo spot che vorrei far vedere perché parla più delle mie mille parole voglio vivere il mio territorio in modo diverso voglio immergermi in un paesaggio da conservare e tutelare voglio le cose come si facevano una volta ma con il desiderio di spingerle verso il futuro voglio conoscere tutto ciò che ha costruito la mia identità e mantenerla nel tempo voglio riassaporare i luoghi che ci appartengono e scoprire veramente l'essenza di ciò che ci circonda un cammino connesso perché la felicità è reale solo se condivisa dal basso coi piedi nella terra la mano sul bastone e lo sguardo intorno alla scoperta di un mondo vero con la libertà assoluta di esserci dentro nei suoni nei profumi e lungo la strada quella che ci porta ovunque grazie grazie era molto bello e ne valeva la pena grazie signor Telloni la parola ora a Luigi Artebani segretario dell'università agraria di Allumiere il suo tema come si traduce la normativa di settore nella gestione quotidiana delle proprietà collettive del Lazio esempi concreti a lei la parola grazie ringrazio ovviamente a nome anche dell'amministrazione perché io appartenente all'organo burocratico e non politico dell'ente faccio ringraziamenti appunto a nome diciamo del consiglio della giunta per l'opportunità che ci date in questa vetrina così importante in questa riunione scientifica per chi ha partecipato al convegno del 20 ottobre del 2017 presso l'università della Tuscia magari risenterà qualche cosa già detta perché sono stato onorato anche di partecipare lì invitato dal dottor Aldo Carosi che è stata un'esperienza unica ovviamente il demurgo è lui è Aldo Carosi conosco bene all'interno ha fatto all'interno della corte l'università che ha già parecchi argomenti mi sono stati sottratti da Alessio Delloni perché in quanto da buon vicino dall'università di Manziana che rappresenta poi insieme al comprensorio dei Monti della Tolfa il comprensorio appunto Monti della Tolfa Cerite Manziate che per la sua biodiversità peculiarità in ordine vegetale animale è stato considerato meritorio di essere inserito totalmente nella ZPS nella zona a protezione speciale insomma la diciamo la comunità della Lumiere è un piccolo paese di circa 4500 abitanti che vedete lì a nord-ovest di Roma circa 70 chilometri ed insieme a Tolfa rappresenta uno dei domini collettivi più importanti senza pena dismentita dopo lo stato ex pontificio che senza soluzione di continuità rappresenta appunto un dominio civico di circa 13.000 ettari quindi parliamo di un'entità rilevante in ordine alla proprietà collettiva ovviamente è un breve proprio un breve scursus per dire da come pervengono queste proprietà collettive in parte pervengono da una liquidazione inversa tipica dell'ex stato pontificio ai sensi dell'articolo 9 del reggio decreto 510 poi successivamente ripreso dal secondo comma dell'articolo 7 della 1766 del 27 altri terreni sono stati pervenuti in base al distacco di cui all'articolo 5 sempre della 1766 del 27 in ordine alla liquidazione degli usi civici ma quello che è più importante è che una cospicua parte del nostro patrimonio deriva da un impegno di tutta la collettività che accendendo mutui sempre onorati fino alla scadenza hanno acquistato nelle varie epoche storiche parte del patrimonio che ci troviamo e quindi dobbiamo essere più che mai responsabili anche per chi ci ha preceduto di mantenere integro questo enorme patrimonio in ultimo c'è stata una sentenza del commissario agli usi civici passato in giudicato laddove ha visto parte soccombente il comune dell'allumiere che ha dovuto restituire circa 300 ettari all'università agraria di allumiere in base a tutta diciamo a questa carrellata veloce per cui sono pervenuti questo patrimonio collettivo ci troviamo un patrimonio appunto stimato in ordine alle 6.300 ettari che è abbastanza costruito che ovviamente oltre ad essere motivo di prestigio è anche motivo di preoccupazione quotidiana perché gestire 6.300 ettari non è da poco insomma anche perché nella storia da quando è nata l'agraria dal 1896 a oggi non ha visto sottrazione del patrimonio ma ha visto diciamo sempre un incremento costante del patrimonio fino ad attestarsi appunto a 6.300 ettari in effetti il patrimonio di 6.500 ettari che è suddiviso in circa la metà del patrimonio boschivo per lo più governato in cedo matricinato appartenente alla famiglia del Quercus e più che altro è in posizione minoritaria di Castagno e l'altra diciamo al pascolo qui vedete la carta dove più o meno è ubicato diciamo questo patrimonio quali sono gli usi fruiti dalla collettività gli usi fruiti dalla collettività li possiamo riassumere in base agli usi essenziali previsti dall'articolo 4 della 1767 al 27 che prevede appunto lo use legnandi e lo use paciendi in sistema sintesi l'uso di legnatico e l'uso di pascolo che appunto in base all'articolo 4 sono stati considerati catalogati non considerati catalogati usi essenziali per la vita quindi molto siamo molto attenti a garantire diciamo questi usi come avvengono in modo molto veloce come ho detto prima i boschi sono governati secondo il cetomo attricinato perciò è molto importante l'utilizzo dei boschi a turnazioni precise previste da un piano di assestamento forestale ovviamente entrano nei boschi solo ditte idonee certificate dal corpo forestale dello stato e come avviene diciamo la fruibilità degli usi di usi civici per la collettività avviene mediante il corrispettivo che le ditte versano che una parte in denaro per garantire quei flussi finanziari ovviamente che servono per il pagamento degli stipendi e cose di questo genere ma soprattutto un'altra parte con il conferimento dalla legna che poi noi solo a prezzo di costo quindi a prezzo essenzialmente concorrenziale di circa 5 euro al quintale quindi al di sotto del prezzo di mercato lo consegniamo all'utente ovviamente avente diritto quindi ai residenti per quanto riguarda l'uso di pascolo il concetto è molto più complicato e poi vedremo anche successivamente perché si tratta di un pascolo semibrado per cui gli utenti che le ditte che hanno piccole entità imprenditoriali di che sia di zootecnia in pratica e ha messo solo il pascolo asinino bovino e equino non è previsto altro ovino caprino non è previsto quindi noi garantiamo ovviamente i riproduttori selezionati iscritti con punteggio selezionati dal punto di vista sanitario che cosa devono fare gli utenti presentano una domanda di fida dopodiché presentando la domanda di fida corredata diciamo da un certificato di donità sanitaria per cui devono aver fatto le profilassi ovviamente sul territorio se no non entrano mi sembra evidente questo dopodiché avviano la loro mantra sul territorio e così avviene avviene diciamo il rapporto quello che è importante è che l'ente oltre a garantire la fruibilità degli usi civici gestisce questa diciamo gestisce una un'azienda in economia diretta perché perché essendo state essere inserite in ZAPS per la loro peculiarità eccetera eccetera o anche di ordine animale ci sono razze autoctone che sono a rischio di erosione genetica come la razza della vacca maremmana come il cavallo tolfetano come l'asino viterbese eccetera eccetera quindi è dovere oltre al diritto comunitario che prevede il diritto alla salute degli animali prevede diciamo eliminare assolutamente il rischio di erosione genetica per questo motivo noi gestiamo circa 500 ettari dove l'università agraria gestisce un'azienda in economia diretta per la quale appunto diffonde le buone pratiche aziendali secondo il metodo biologico come pionieri siamo stati infatti man mano che andiamo avanti più aderiscono al metodo biologico allevamento di Torelli e Stalloni da avviare presso le mandri degli utenti perché se comprati sul mercato ovviamente hanno un costo molto ma molto maggiore non ci possiamo permettere di comprarli e quindi emissioni sul mercato di prodotti sani destinati al consumo umano carne grano duro come diceva il dottor Pelloni precedentemente che poi vedrò brevemente e successivamente e assicurarsi ovviamente attraverso questa azienda gestita in economia diretta quei flussi finanziari che ovviamente ci servono per la gestione visto che non abbiamo nessun trasferimento corrente né dalla parte dello Stato né dalla parte della Regione per gestire questi terreni ci dobbiamo arrangiare affinché per garantirci flussi finanziari appunto per portare avanti queste proprietà collettive che essendo di 6500 arriva sicuro che non è per niente facile insomma questo è il tipico toro maremano diciamo che è a rischio di erosione genetica ma non mi soffermo sulla bellezza di questo biotipo che diciamo ne vale veramente la pena di essere preservato questo è uno scorcio dell'habitat naturale dei monti della tolfa che prevede in basso quelle cave di allume che diceva il dottor Telloni ormai in disuso con l'avvento della chimica perché l'allume ovviamente non è più estratto perché serviva per la concia delle pelli per la fissazione dei colori sulle stoffe che appunto con l'avvento della chimica non trova più impiego questo allume come ho detto prima se vogliamo fare investimenti in conto capitale c'è l'articolo 46 del reggio del decreto 332 del 28 che dice che per quanto se gli introiti non servono non sono sufficienti per salvaguardare diciamo la gestione dei beni o per pagare l'imposto eccetera eccetera l'università agraria sarebbe obbligata a far pagare delle corrisposte agli utenti che ovviamente aggraverebbero ancora di più in buona parola non sarebbe più conveniente per loro voglio dire fare questo allevamento quindi dobbiamo scegliere forme alternative come mediante l'accesso ai fondi comunitari siamo riusciti a farsi riconoscere come soggetti ammessi per quanto riguarda gli aiuti finanziari in materia di zootecnia e quindi abbiamo fatto per primi la salvaguardia del fageto perché è una fageta depressa come diceva il dottor Telloni con i sentieri eccetera perché dal punto di vista fruibile proprio ambientale diciamo proprio ambientale c'è un valore enorme sono 150 ettari in territorio urbano fruibili non solo dalla comunità da Lumiere ma anche dalla comunità vicina di Roma di Civitavecchia eccetera eccetera questo è un esempio ecco di come sono venuti alla salvaguardia che è stato un progetto molto importante che ci ha visto impegnati ma che ci ha dato pure parecchie soddisfazioni ecco un altro progetto molto molto più importante è stato il progetto LIFE che come sapete sono progetti sempre comunitari che a differenza dei PSR invece di passare per la regione abbiamo contatti direttamente con la commissione europea noi eravamo come soggetto partner mentre il soggetto capofile era il comune di Manziana però per entità diciamo di quadro economico del progetto eravamo l'università che era il soggetto partner più importante perché avevamo un quadro economico stimato intorno a un milione centomila euro quindi è abbastanza importante questo diciamo è il logo del LIFE questo per dire che ormai ci dobbiamo attrezzare in modo diverso perché per assicurarci i flussi finanziari dobbiamo fare questo se no non ci abbiamo non ci abbiamo futuro ecco queste sono un po' ecco vi rappresento la cartellonistica diciamo le opere più importanti che sono state fatte sono per esempio ho finito finisco subito sono per esempio il rifacimento di muri a secco che oltre a prevedere un'acquisizione del know-how da parte di di gente di allumiere ovviamente sono belli e sono idone al contenimento del bestiame anziché queste sono come il diritto da beveraggio in base all'articolo 4 è un diritto essenziale per la vita da parte degli utenti quindi abbiamo pensato di ristrutturare tutti i fontanili e vedete prima Antem e poi successivamente come sono venute decisamente diversi insomma questa è la compartimentazione di cui parlavo perché il pascolo anche il pascolo va visto in chiave moderna per cui abbiamo creato sei comparti diversi per cui l'utente può scegliere in quale comparto può andare ci sono due comparti che sono quattro comparti normali un comparto per quanto riguarda eventuali focolai di infezioni di brucellosi leucosi o tubercolosi e un altro comparto per chi vuole praticare una zootecnia invece che convenzionale e biologica quindi ad ampio spazio diamo la possibilità a tutti di scegliere sempre pascolo si tratta però con forme diverse nuove eccetera ovviamente ci siamo dotati di un disciplinare molto particolare perché il regolamento degli uso dei beni che prevedeva prima ha imposto di dotarci di un disciplinare appunto per quanto riguarda la regolamentazione di questi comparti abbiamo anche preservato diciamo un bosco di circa 40 ettari che è avviato ad alto fusto nel passato da esempi stava morendo praticamente il bosco e infatti sta rinascendo con ottimi risultati e poi finisco diciamo che quello che facciamo per quanto riguarda abbiamo avviato anche delle pratiche ecosostenibili per quanto riguarda giovani imprenditori locali però questo è meritorio d'attenzione perché è molto importante perché in linea al pronunciamento della Corte Costituzionale che dice che non c'ha più senso la catalogazione dei terreni A e B ai sensi dell'articolo 11 cioè quelli suscettibili di cultura agraria e quelli ci hanno tutti i valenze ambientali con il piccolo paesistico di quel decreto legislativo 42 del 2004 quindi che cosa facciamo non facciamo codizzazioni ma facciamo diciamo assegnazioni per cui però l'impianto rimane all'ente e pertanto se un utente poi non vuol fare più quella cosa è suscettibile di ritorno a ripristino originario dei luoghi quindi diciamo la proprietà collettiva rimane immutata solo variata temporaneamente come un orto biologico tant'è vero che non risulterà difficile pensare che una volta che un orto un imprenditore non fa più l'orto non fa più la vigna ripristino originario dei luoghi è senz'altro facile insomma poi abbiamo piantumato 5.000 piante d'olivo perché dal comune della Lumiera abbiamo ricevuto un gestione un frantoglio oleario già in produzione già abbiamo fatto quest'anno circa 3.000 quintali d'olive quindi con vari risultati sempre andando in assegnazione però dell'impianto affinché non siano considerate migliori ai sensi dell'articolo 9 quindi eludiamo la legittimazione che poi in estrema sintesi si tratta sottrazione della proprietà collettiva sia dall'articolo 13 e 19 per l'enfiteusi a miglior cultura sia la legittimazione per noi rappresentano sottrazione dei beni comuni quindi questo è con le scuole abbiamo cercato di e poi c'è il presidente che voglio salutare che mi ha dato l'onore Pietro Vernace dell'Università Agraria del Lumiere che quest'anno abbiamo intrapreso un nuovo cammino cioè come filosofia di vita proprio appartenente a un ente con il metodo biologico abbiamo messo a dimora 10 ettari del senatore Cappelli un grano duro particolare per cui abbiamo fatto delle farine e della pasta molto molto richieste e quindi decisamente la domanda è molto superiore all'offerta grazie 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 a lei grazie a lei la parola ora è al dottor Robert Brugger presidente del dominio collettivo di Rover Carbonare il quale ci parlerà di questo itinerario d'ammaso e colmello della magnifica comunità di Fiemme al riconoscimento da parte della Repubblica Italiana con la legge 168 del 2017 a lei la parola grazie grazie tanto ringrazio il professor Neri principalmente il professor Grossi e tutti voi per aver dato la possibilità anche al nostro dominio collettivo di potersi presentare in questa riunione scientifica è per noi un grande un grande onore e devo ammettere che anche non è facile visto il pubblico molto competente e molto preparato e questo mio intervento doveva essere accompagnato da un secondo intervento del dottor Giordani per la parte storico-giuridica purtroppo non sta bene e spero comunque che quello che è diciamo il percorso sia comunque comprensibile e noi ci troviamo nel nord Italia zona Trentino tra le province di Bolzano e Trento in particolare ci troviamo tra i comuni di Capriana e Anterivo e abbiamo quindi la doppia identità e anche questo ci comporta anche una doppia gestione sia di pianificazione forestale sia amministrativa perché le due province hanno due impianti normativi diversi questo è difficoltoso ma allo stesso tempo anche un arricchimento per noi e io faccio un parallelo con la legge 168 per raccontare un po' quello che è il nostro dominio anche se al momento diciamo nelle nostre province è ancora un po' al di là di avvenire l'applicazione di questa nuova legge e i domini collettivi in Val di Femme sono circa sono sette la magnifica comunità è più famosa le regole dei feudali di Predazzo poi abbiamo il feo di Rucadin l'interessenza di Anterivo la vicinia di Malgola la vicinia dei Camerlini e la vicinia dei Rossi e una parte molto bella di questa legge è proprio il fatto che abbiamo se siano stati diciamo abbattuti quelli che sono le barriere di terminologia per cui adesso si ampia diciamo la possibilità di avere rapporti amicizia e di scambiarsi informazioni una cartina che dà l'idea di come sono disposti i vari domini collettivi nella Val di Femme chiaramente la macchia in rosso è la magnifica comunità e la nostra è una macchiolina azzurra qua a sinistra Carbonare e Rover si trovano in bassa Val di Femme a confine con la Val di Sembra siamo in un'attitudine di circa 1000 metri e qua vediamo anche sullo sfondo il torrente a viso che fa un po' da confine a valle per la nostra proprietà la nostra proprietà ha un'estensione di circa 150 ettari di cui la maggior parte è a Bosco e la minima parte è a Pascolo e la nostra provenienza da dove veniamo noi veniamo siamo praticamente proveniamo dalla magnifica comunità quindi era il dominio di Rover Carbonare era un'investitura della magnifica comunità di Femme c'è quindi un stretto rapporto di relazioni sia di vicinanza che di di scambio tra le due tra le due comunità e qua vediamo anche scolpita in questa pietra quelle che sono le iniziali della comunità di Femme e del Maso Rover quindi già questa pietra qua è stata scolpita nel 1890 che è stato l'anno un po' fondamentale di crescita della nostra comunità un breve report storico diciamo su quelle che sono state le principali tappe del nostro dominio con nella parte superiore la parte storica relativa alla comunità di Rover Carbonare e nella parte in basso quelle che erano le tappe principali con alcuni avvenimenti diciamo che credo come tutti i domini collettivi anche il nostro fino alla rivoluzione francese era un po' tutto tranquillo successivamente c'è stato un maggior movimento e crescita ecco la legge mette in evidenza la parte fondamentale di ricerca e di conoscenza storica quindi fondamentale avere le carte e avere le informazioni per sapere e per poter dire dimostrare che siamo un dominio collettivo e che abbiamo sempre esercitato gli usi civici su quelle terre noi queste ricerche le abbiamo effettuate principalmente nell'archivio della magnifica comunità di Fiemme e abbiamo avviato anche un progetto questa ricerca storica ci ha permesso anche di vivere un progetto di ricerca sempre in collaborazione col centro studi e abbiamo prodotto con la collaborazione dell'avvocato Job e del suo fratello ingegnere Claudio Job e chiaramente col sostegno del centro studi un atlante delle proprietà che riporta varie informazioni e anche varie mappe che rappresentano quella che è l'estensione della nostra proprietà questa è una mappa con le mappe storiche del catastro astro-ungarico del 1800 qua abbiamo un'altra mappa con lo sfondo catastale con evidenziate le aree del nostro dominio a seconda del tipo di cultura questa ricerca storica ci è stata utile non solo per avere un volumetto che tra l'altro è importantissimo ma anche per aiutarci nella difesa della nostra proprietà perché anche noi abbiamo in comune come tante altre questo problema di dover difenderci da quelle che sono le impropriazioni o le occupazioni in debita del nostro territorio un altro aspetto che nella legge non ho ritrovato ma che sicuramente nella nostra provincia è comune è quello io lo chiamo della frammentazione o quello che è anche della dispersione della proprietà cioè c'è un lento ma inesorabile passaggio di superfici dal dominio ai comuni o a privati nel nostro caso appunto per la costruzione della diga con occupazioni con uso capione o con espropri e qua nel grafico vediamo che diciamo sul 100% della nostra proprietà l'8% dal 58% ad oggi è stato appunto ceduto per espropri o per uso capione e di questo 8% una buona parte è stata ceduta appunto per occupazione di queste diga un altro aspetto importante è quello della tutela ambientale e qua la nostra proprietà si trova al 100% sotto tutela perché ci troviamo in provincia di Bolzano all'interno del parco naturale del Monte Corno e Rete Ecologica Europea Natura 2000 per la parte Trentina ci troviamo nella parte di tutela della rete di riserve e in più abbiamo certificato tutti i nostri boschi con la certificazione PFC purtroppo anche questa tutela non ci mette a riparo da quelli che sono quelli che penso che tutti abbiate sentito dalla cronaca ultimamente quelli che sono i danni ambientali dal maltempo che ci sono avuti in questi giorni qui bisognerà riflettere su come continuare o come vedere di gestire i nostri territori nel futuro perché dobbiamo chiederci se abbiamo ancora tempo per invertire la rotta e cercare di avere una gestione più adatta e meno invasiva il nostro occhio deve andare al futuro quindi essere la proprietà come dice la legge intergenerazionale e qui è importante iniziare a impegnarsi e trovare delle soluzioni e trovare e impegnarsi a fondo per dare spazio e per dare ai giovani e per impegnarsi a trovare a mantenere la nostra proprietà un'altra cosa importante è appunto la comunità stessa il valore che questa comunità che risiede sul territorio ha e nel nostro caso diciamo la comunità è piccolina però è comunque attiva e sente molto l'appartenenza al dominio collettivo un altro aspetto importante è quello dell'assegnazione della possibilità di dare a giovani agricoltori in affido o in uso diciamo le attività sul dominio noi ad esempio abbiamo dato a un giovane agricoltore la possibilità di pascolare su questi nostri terreni quindi abbiamo due vantaggi lui pascola e ha un suo riesce a far lavorare la sua azienda e noi riusciamo a mantenere il pascolo pulito e ordinato alcune immagini del nostro dominio questo è carbonare rivediamo di nuovo questa data del 1890 nel quale è stata costruita la chiesa e lì è stato un po' il momento di crescita maggiore e di dipendenza della nostra comunità qua vediamo sullo sfondo la valdicembra con il torrente a visio questa è la desmontega delle pecore anche questa è un'iniziativa nuova che abbiamo portato avanti da poco questo è il paese di rover purtroppo oggi quasi disabitato dopo l'alluvione del 1966 alcune immagini del maso rover del torrente a visio queste sono alcune immagini sempre del maso rover ecco io diciamo qua invito chiaramente tutti a venire a fare un giro in valdifiemme e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a preparare questa presentazione e che aiutano e che aiutano il dominio di rover carbonare nella sua attività mando a tutti voi un grazie da tutti gli appartenenti alla nostra comunità perché sappiamo che il lavoro che viene svolto in questa sede è molto importante perché ci dà sostegno e ci aiuta nel trovare quelli che sono i nostri obiettivi e nel raggiungerli vi ringrazio per l'attenzione grazie al dottor Ruger allora la parola all'ultimo degli intervenienti il signor Alberto Reggiani presidente della partecipanza di Nonantola suo tema le proprietà collettive e il calo demografico degli aventi diritto una riflessione prego buonasera a tutti e ringrazio il comitato organizzatore per lo spazio che ci ha dato e la visibilità in questa sede prima di iniziare anche io a titolo personale ma anche del consiglio dell'ente che io rappresento volevo dare un abbraccio alle comunità che hanno avuto i danni degli eventi temporaleschi noi che abbiamo ancora qualche cicatrice del termoto di sei anni fa siamo particolarmente sensibili a questi temi ambientali in questa breve nota volevo evidenziare e condividere un argomento che comincia ad essere veramente preoccupante per il nostro ente che appunto è il calo demografico degli aventi diritto la partecipanza agraria di Nonantola è una forma di gestione collettiva dei terreni nata formalmente nel 1058 quindi abbiamo quasi mille anni di vita e il nostro territorio che ci troviamo ad amministrare è un territorio prevalentemente agrario fatto di 760 ettari di terra di circa con circa un 10% investito in opere naturalistiche fatte di laghi di acquitrini e di boschi senza dilungarmi poi nelle peculiarità che riguardano il nostro ente ma per rimanere anche legato al tema di questa nota ricordo solo che il titolo dei partecipanti di partecipante cioè l'avente diritto del godimento dei terreni periodico spetta agli appartenenti alle 22 famiglie storiche di Nonantola che qui sono rappresentati i 22 cognomi spetta a tutti gli appartenenti alle famiglie quindi dipendente dal sesso maschio femmina e dall'età degli aventi diritto e questa è un po' una peculiarità del nostro ente e l'appartenenza alle famiglie è rintracciabile attraverso un'anagrafica pressoché completa che noi abbiamo nei nostri archivi nei nostri fogli di famiglia che parte circa dal 1580 e arriva ai giorni nostri la trasmissione del cognome e quindi del diritto avviene in linea mascolina e per godere del diritto di sfruttamento dei terreni è necessario anche il cosiddetto incolato cioè la residenza nel comune di Nonantola questi sono un po' i caposaldi della nostra partecipanza che sono poi anche le possibili linee di intervento per quanto riguarda un eventuale argine al tema del calo degli aventi diritto la partecipanza di Nonantola ha sempre avuto un peso importante nella comunità del nostro comune e in particolare all'inizio la popolazione si sovrapponeva con i partecipanti cioè tutta la popolazione erano partecipanti poi c'è stata una divergenza ma per lunghi secoli i partecipanti hanno costituito una parte preponderante della comunità di Nonantola solo negli ultimi anni questa loro incidenza è calata progressivamente fino a che negli ultimi tempi questo calo è diventato veramente preoccupante e oggi è un'occasione anche per condividere questa situazione noi se mettiamo a confronto senza elaborazioni di particolare raffinatezza comunque mettiamo a confronto i dati di due riparti storici uno del 1955 e uno più recente l'ultimo del 2009 si vede chiaramente come gli aventi diritto nel 1955 erano 3545 unità che si sono contratte a 2045 nel riparto del 2009 quindi con un calo netto del 43% i due histogrammi però non sono paragonabili perché con la riforma dello statuto che ha preceduto il riparto del 2009 sono state reintegrate nei partecipanti cioè negli aventi diritto anche le donne figlie di partecipanti che andavano in spose ai non partecipanti che precedentemente perdevano il diritto di godimento e quindi se invece paragoniamo e quindi reintegriamo anche questa quota di donne nel precedente riparto vediamo che il calo dei partecipanti dal 1995 al 2009 è perfettamente dimezzato cioè si è passati da circa 4000 unità alle 2045 unità dell'ultimo riparto questo è un po' la fotografia impietosa insomma di quello che ci sta succedendo l'ultimo dato preciso è quello del 2009 ma abbiamo già anche della visaglia che riguardano i tempi più recenti altro dato comunque interessante nella sua drammaticità è anche il calo che ha il peso dei partecipanti nei confronti del resto della popolazione di Nonantola in quanto nel 1955 circa il 45% della popolazione era rappresentato da partecipanti quindi la popolazione di Nonantola erano 8000 abitanti e un 45% eravamo partecipanti oggi con l'aumento esponenziale dell'urbanizzazione della crescita demografica del paese siamo quasi 17000 abitanti e i partecipanti sono ridotti a un 12% questo nel 2009 stando alle statistiche più recenti siamo poco più del 10% e quindi anche gli ultimi segnali che abbiamo sono veramente preoccupanti perché al 31-12 del 2016 quindi passati pochi anni rispetto al 2009 gli aventi diritto sono calati di ulteriori 204 unità e soprattutto se andiamo a fare un'analisi della nostra comunità vediamo che è una comunità di età media abbastanza avanzata in quanto gli under 45 che così arbitrariamente potrebbero essere definiti le persone in età fertili che possono diciamo così proseguire la genealogia e continuare la partecipanza sono circa il 31% a differenza invece di un 70% che è una popolazione di over 45 purtroppo abbiamo anche ormai stabilito l'estinzione di una delle storiche famiglie che con la morte dell'ultimo erede maschio sono rimaste solo due donne anziane quindi ormai la famiglia dei medici che è una delle 22 famiglie storiche la possiamo già definire prossima all'estinzione il calo demografico è dovuto in parte alla contrazione della natalità che è un po' un male comune della società moderna che riguarda quindi di concerto anche i partecipanti quindi facciamo meno figli e quindi la popolazione dei partecipanti diciamo così si riproduce meno ma in grossa parte è dovuta anche alla perdita dell'incolato in quanto la dimensione comunale probabilmente è una dimensione troppo stretta per opportunità laborative o opportunistiche molti non antolani molti partecipanti si spostano di residenza anche solo nei comuni vicini e di conseguenza perdono il titolo di partecipante e c'è quindi questo grosso problema che riguarda la nostra comunità questo è chiaro che noi stiamo guardando in prospettiva noi abbiamo stiamo amministrando un ente che ha quasi mille anni di vita e per tutta la sua storia ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale per la comunità di non antolano sotto tutti i suoi diversi aspetti dalla formazione della comunità stessa che come recita l'articolo 2 del comune di non antola la comunità di non antola nasce dalla partecipanza fino a tutti gli aspetti economici che riguardano il nostro paese sono nati e si sono sempre legati alla partecipanza ancora oggi il nostro ente rappresenta un riferimento importante sia dal punto di vista storico-culturale ma anche paesegistica ambientale o anche per l'agricoltura e tutte le filiere ad essa connesse compreso anche l'ecoturismo in questo trovato diverse convergenze con la relazione che prima ha fatto il professor Telloni legato alla loro realtà e quindi l'ente è uno straordinario mix tra la cultura la natura l'agricoltura che può sviluppare dei progetti veramente grandiosi è chiaro che poi la realizzazione di questi progetti passa anche attraverso un peso politico o organizzativo che l'ente può avere e quindi minore è il peso proprio l'incidenza che ha il nostro ente nella comunità di Nonantola ma anche la capacità stessa del nostro ente al nostro interno di rigenerarsi e stare al passo con i tempi per poter sempre svolgere queste funzioni di aiuto alla comunità tendono a calare man mano noi caliamo di numero e quindi diventiamo meno virtuosi e meno incidenti e facoltosi a questo punto il tema è come poter non dico fermare ma quantomeno tamponare o rallentare questo fenomeno e i campi di attività sono comunque pochi e non di facile di facile affronto quello più semplice potrebbe essere un'estensione dell'incolato a una dimensione più grande del comune potrebbe essere anche la valutazione del ruolo delle donne nella trasmissione del diritto comunque temi veramente difficili da affrontare e qui soprattutto chiederò l'aiuto anche del centro di studio e documentazione per affrontare questo tema anche dal punto di vista proprio giuridico perché è veramente complesso oggi noi siamo qui a presentare questo tema anche in rappresentanza delle altre partecipanze emiliane che in modo più o meno sentito risentono in questo fenomeno e per condividerlo raccogliere anche esperienze poter affrontare anche assieme ad altre realtà che risentono dello stesso fenomeno dei percorsi condivisi e concreti per ragionare il problema e appunto come introdotto prima anche chiedere aiuto al centro studi per affrontare il problema dal punto di vista giuridico che per noi diciamo così potrebbe essere il nodo più difficoltoso grazie per l'attenzione approfitterei solo in chiusura di questa vetrina per ricordare che a Cremona dal 13 al 15 di dicembre ci sarà un convegno che lega le proprietà collettive a Natura 2000 cioè le proprietà collettive che hanno in gestione Reti Natura 2000 hanno la possibilità di presentare loro esperienze e confrontarsi in questo convegno che si terrà a Cremona il programma del convegno lo troverete all'ingresso grazie ho visto che avete messo un arcobaleno nel mezzo di un cielo abbastanza scuro quindi qualche speranza assolutamente bene è ovvio che abbiamo ascoltato con preoccupazione quest'ultimo intervento anche se è puntuale e registra una situazione esistenziale che sussiste vediamo speriamo che ci possa essere una sterzata positiva nel futuro prima di dichiarare conclusa la nostra sessione vi inviterei il dottor Ragazzi che intende fare una comunicazione che può essere utile a tutti i comunisti prego sì buonasera a tutti grazie per il minuto che mi viene concesso volevo dare una comunicazione importante perché penso che ormai sia ufficializzabile quindi siamo in dirittura di arrivo praticamente il giorno 7 di dicembre presso il sito UNESCO Abbastia di Pomposa verrà lanciato ufficializzato il bando del Ministero dei Beni Culturali per la scelta della candidatura italiana al premio europeo del paesaggio al quale noi come consorzio degli uomini di Massensatica abbiamo intenzione di candidarci abbiamo già fatto un lavoro che parte diciamo così circa un anno fa e quindi già da ora siete tutti invitati a partecipare alla presentazione alla ufficializzazione del bando il programma non è ancora definito in via di definizione e stiamo individuando anche quelle che possono essere le esperienze più significative da poter illustrare in più ne approfitto perché magari in sala c'è anche qualche tecnico urbanista qualche agronomo eccetera anticipo che il bando scadrà orientativamente a dicembre il 20 di dicembre scade il bando ok è una cosa abbastanza semplice da presentare quindi se c'è qualche realtà che può essere interessata sicuramente è una bella una bella occasione per portare l'attenzione dell'Europa sulle nostre sulle nostre realtà grazie comunque metteremo l'invito ufficiale con il programma sul sito e naturalmente utilizzeremo gli indirizzi anche che il professor Nervi riuscirà anche a fornirci grazie allora con questa comunicazione è chiusa questa sessione dei nostri lavori l'appuntamento è domani mattina alle ore 9.30 seconda sessione con la presidenza del professor Vincenzo Ferrari a domani a domani